Ragazzi prima di lasciarvi al video vi dico di prepararvi perché il 13 febbraio ritornano le grandi serie e alle ore 16 iniziamo tutti insieme Metro Exodus un gioco che aspetto da tantissimo e alle ore 18 invece iniziamo Far Cry New Dawn Quindi mettetevi la sveglia perché il 13 alle 14 uscirà Metro mentre alle 18 Far Cry New Dawn Non vedo l'ora vi aspetto in tantissimi vi lascio al video ciao Salve a tutti ragazzi e bentornati a Meshoshua siamo tornati su Brawl Stars e oggi come potete vedere mi trovo a Castel Goffredo una ridente cittadina di Boh Castel Goffredo aspetta un comune italiano di 12.719 abitanti della provincia di Mantova in Lombardia Però ragazzi se a Castel Goffredo ci sono 12.000 abitanti noi per questo video dobbiamo superare almeno i abitanti di Goffredo Quindi superiamo i 12.000 mi piace Però ragazzi oggi è un video speciale perché è tornata la ruota del male Non la giro perché in realtà ragazzi io sono a Castel Goffredo ma la ruota è a casa mia Oggi faremo la ruota di Brawl Stars a casa mia come potete vedere ho scritto su ogni spicchio della ruota il nome di un brawler Ovviamente non li ho potuti scrivere tutti Wow Meshoshua quanto sei organizzato Questo me lo dico perché poi mi dite Mike ma dove sono che ne so Brock, Shelly Eh ragazzi ho scelto Ho messo Shelly? No Meshoshua No ho messo Jesse Ho messo Jesse perché di cui ho la ulti Tra l'altro ragazzi starete vedendo qui che ormai sto diventato proprio stellato eh Proprio raccola evati Esatto Cioè ragazzi ho Frank, ho il primo, ho Pocio che vi ho fatto vedere Ho Jesse, ho Nita Nita ragazzi è devastante Ah vi dico subito questa cosa 50.000 mi piace a questo video Innanzitutto perché è tornata la ruota Ma soprattutto perché tra 4 giorni finalmente metteranno Eugenio il genio Che però è solo blu eh Non mi piace questa cosa No quei famosi 46 gas che nel tempo sono diventati 52 Le aprirò quando uscirà Eugenio Quindi tra 3 giorni ragazzi mettete la sveglia perché tornerò a Brawl Stars E aprirò 50.000 mi piace perché è tornata la ruota E inoltre ragazzi domani passate sul canale dei Jumpy Perché abbiamo fatto un video insieme a lui E abbiamo fatto delle combo devastanti Quando io gioco sul mio canale è sempre una merda Quando gioco invece sul canale dei Jumpy faccio il devasto Eh veramente ragazzi è una cosa indecente ha fatto Quindi ragazzi che faremo in questo video Girerò la ruota e sarà la ruota a scegliere il brawler Che utilizzerò per le partite La stessa cosa farà Jumpy Quindi la ruota ci sceglierà il brawler E noi andremo in partita Jumpy mi ha dato anche un'idea E se appunto superiamo i 50.000 mi piace Torniamo con la ruota Ma invece di mettere i brawler Mettiamo le coppie di brawler Quindi sotto nei commenti potete consigliarci delle coppie Anche a casissimo Non per forzaporte Perché la ruota ce la suggerirà Ragazzi con i nostri incredibili mezzi professionali E grazie a un collaboratore che è a casa mia Che girerà la ruota per me Vado eh 3, 2, 1 Dai ti prego Dammi buone notizie Oddio Oddio Leon 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 ragazzi Sto credendo E' vero E' tutto vero E questo lo devo usare Io o tu? No io lo devo usare Adesso tocca a te Il mio collaboratore gira la ruota Anche per Giampiero Sei pronto? Collaboratore Gira la ruota 3 Oh mazza ragazzi Proprio le cose belle Forza Giampiero Dai che cosa c'è? Pensa se ti esce Corvo Oddio 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 No che schifo Beryl 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 investiga dopo Beryl è fortissimo Quindi io prendo il mio Leon A livello 7 Madonna Beryl il tuo E' troppo ignorante E guarda Beryl raviolone E ce ne andiamo ragazzi Ovviamente in sopravvivenza Non lo so se è una buona combo Cioè sulla carta si E' sul gioco? E' sul gioco però Vediamo un attimo Anche perché Per fidarci ci fidiamo instant No ma infatti Fidiamoci e basta Andiamoci a fidare Dientiamo un tipo super potenti Casse qua sotto Oddio Qua c'è Corte Oddio che dolore Oddio che dolore Mamma mia Che botta Che botta Che v-press Che botta Che v-press Grazie Attento Oddio Ma dai me lo mangio Guarda che me lo mangio Cattivissimo sei Dai 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 Vieni a dire al panino Dai dai Sono morto Vai a fare in culo No ti ho ucciso Lasciamela Eh vabbè Come te la minchia Tra 11 secondi vieni Vabbè l'ho pushato Non posso andargli in faccia A coso Come si chiama Aspetta 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 Mettiamoci a mezzo a questi Di qua Vai 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 Ok Vai 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 Distrutto morti 10 6 Vai Non è con l'ultimo Non è vero Non è che minchia rimane ancora 3 settimbre Madonna Aspetta 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 Dovrei fornirmi un po' di vita Oddio Quello è morto Dai Andamaci a Frank Andamaci a Frank Mi prendo Frank 3 Vado invisibile Aiuto Sì 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 Vieni qua Vabbè aiuto Dai ce ne ho venti Ci siamo mangiati Aiuto cosa Aiuto cosa Sono il migliore Eh sei il migliore Vabbè ragazzi Io ho risultato per Leon Però Mi avete detto Che c'è un modo alternativo Per tirare con Leon Cioè Ci sono due modi Però io non l'ho Non l'ho ancora mai Non l'hai appreso Ancora Non l'ho ancora mai appresi Va bene Buona combo ragazzi Mi è piaciuta questa qui Abbiamoci pure Il tutto Tiriamo di nuovo la ruota Qui a Castel Goffredo Fa un po' freddino Devo essere sincero C'è la vestaglia Quella blu mitica Allora Vado ai ragazzi Vai gira Assistente Prego il mio collaboratore Di girare la ruota Grazie Attenzione battaglione Su Chi sta andando Infatti ragazzi Che sono tutti I belli fortini Il problema è Nella combo Chi 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 Bocio Bocio Beryl Oh Beryl di nuovo Non ci credo Beryl ragazzi Beryl Ok Tocca a te Gian Piero Vai gira Ora c'è di nuovo Beryl Ma c'è di nuovo Beryl ragazzi Beryl e Beryl Non lo possiamo fare Vero Peccano Però sarebbe stato interessante Attenzione Gira la ruota Vai 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 Oddio Gian Piero Mi connetto alla ruota Pam Bella Pam Pam e Beryl Che poi tra l'altro sai do sta Pam a fianco a Beryl Ci siamo ragazzi Madonna mia vai Ragazzi io non so Se questa può essere una buona combo Sinceramente Guarda con Pam è sempre una buona combo Oddio c'è l'altro colta fra Capirai c'è paura di colta Di colta e Piper si però Mi ha distrutto Cioè sei esploso Mi hanno pusciato tutti e due che devo fare Quella prende dei chilometri Quella è un cazzo di cecchino Eh lo so Ci andiamo a prendere altre casse se le troviamo Vorrebbe stemmiare in questo istante ma non lo faccio Quello è tuo fra quello è morto No come ho fatto a morire Non ho parole Cazzo fra Ho lanciato la ulti Vabbè ho otto secondi Ma l'ultimo Oddio mamma mia Piper mi ha fatto malissimo No questo qua sotto No aspetta fra guarda contro HPO Che cazzo stiamo a fare No fra non perché stai busciando quelli Me li sono mangiati Me li sono mangiati Eh ho capito ma dietro c'è il mondo No Stai 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 Aspetta 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 Questa te la mangi Qualco due No 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 vattene 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 Mi sono fottuto del punto fra Oh che dolore Resta resta due secondi Che bot che vu press Che bot che vu press No no che cos'è l'altro colt lì in mezzo Oddio No ho sbagliato la ulti Bravo 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 Bravissimo Campera camper Perché me camper Sto con le pezze al culo Porca zozza Dai questa si rifà Dai è stata troppo frenetica Dai dai rifacciamo Ce la siamo giocata male Perché ragazzi Il fatto è che quando iniziamo Un po' ci dobbiamo un attimo Abituare con questi brawler Bomb Non so però quante Bomb Vai vai Facciamoci tutta questa linea centrale Dritta A casse Vai vai Prendiamoci a sinistra Ci flancano Ci flancano Ci flancano Prendi qualcosa Qua questo è il primo Ma non è croce Cattivissimo No Si è morto Non si è morto Fra No non si è morto Non si è morto Perché è il primo Me lo voglio scattare tutto Fra Stiamo divisissimi Vieni qua Riunifichiamoci Zio Riunifichiamoci No si è morto Non so Ho pusciato troppo Ho pusciato troppo Ragazzi Aspetta 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 Sei secondi Resisti Smitraglia La smitraglia Li Smitraglia Li smitraglia Vieni qua Ma dove volete andare Oddio Scegli l'ulti di Scegli Vabbè Scegli vai a fare in culo No Ho fatto una grambola sbagliata Una grambola Sì Ok ci sta bene Sento che è colta l'ulti No l'ulti di quella La troia Ma tranquillo Ne ho otto Cosa cazzo stiamo facendo Non ho idea Io sto Fa spammato Io c'ho l'ulti Però sto Oddio Tara qui in mezzo Ha di nuovo l'ulti di Tara Hit importanti o no Bra via via Ok ho l'ulti Fra vieni qua Sali 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 Non fa male Sali Non fa male Tieni Refillati Ma io stavo bene Il free refill Come il KFC Come labbra Oh guarda Andiamo a riprendere questi Che stanno a zero Ma questi dove cazzo Spuntano scusa Questi sono free Freeboot Questo è No Un errore madornale Errore madornale Sì Sto 88 No Brava scappa 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 Bravissimo 20 secondi 20 secondi Guarda quello No Oh no Oh guarda che partitone A furto Porco giù No Ce la dobbiamo rifare Gianfiero Eh che sta gasando No una vittoria la dobbiamo fare Con sto team Dai Vabbè ragazzi Nessuno saprà mai Se riusciremo a vincere Con questi qua Ma Giriamo la ruota Per l'ultima volta Secondo me La chance vai Sì Se giocavamo di nuovo Potevamo vincere Però Che cazzo ce ne frega Sì ma tanto Ma ci riesce Barry il sicuro Barry li investica dopo Brescia e Barry Le signitiva Che in pendenza Sta Eh eh Significate si eh Attenzione Oh Pocho Madonna Pocho Giampino Bello pocho Bello pocho Pocho ce l'ho bello In cattivo eh Giro anche per te Oh Barry Vabbè Cosa c'è No non ci credo Pocho Eh pocho Basta Oh Vai Ho chiesto l'assistente Di girare la ruota Uh Penny Penny market Va benissimo Parca pezza Madonna Stellati proprio Qualità pinne gialle Assurda Adesso troviamo i top player Sì Ahahahah Anche a me Riecto Vai ragazzi Si deve vincere Cazzo Guarda dove ci ha fatto spawn Una c'è niente Castelgofredo Ci ha fatto spawn Oh oh qua sotto Eh Cioè non si sa Quello ci aveva Cioè pure Mizzia Ci aveva già Perché a volte Piggio Senza mirare Bravo Sì sì Guarda quel porco disco Ballito che non sei un'altro Oddio Guarda che male che vi faccio Oddio 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 Noa abbiamo scoppiato Sì quello è l'ultima Aspetta No perché sei scappato No Te 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 Sei preoccupato Te 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 Chancellor Non ti ho Che costo Guarda che non ne ho A che costo Non ne ho Ne ho Non mi hai 等 Adventure Eh lo so Lasciò Vade Natalie Aspetta che sto triggerato Ok a nascondere è uscito per la cattiva partite proprio al cardiopalma al fardio calma o al cardioparma se stiamo in Emilia Romagna ma quello 9 mamma mia distrutto no l'ulti barca madosca fra scappa scappa fra sono morto che scappo che scappa guarda qua guarda oddio prendi quei punti picchiale tutte picchialo duto si guarda questo sta tenendo piano fra piano piano con calma calma e con rigore vai push adesso 3 2 1 vai 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 porco due li scoppio questo se si arrende raga il mortaio lo prende fino alla morte secondo me adesso si infila in safe dai io mi prendo pure un po' di colpi mamma mia you can't see me you can't see me faccio con 12 comunque veramente indecente che poi è bello è se li sono andati in faccia perché pure mi toglieva la vita c'ho la ulti che me la riprendevo ragazzi io direi che ci possiamo salutare qui per questo video di brawl stars diciamo che però se ci suggerite delle combo lo facciamo nel prossimo video spero vi sia piaciuto appena esce un genio torniamo e apriamo i mega box ringrazio jumpy ringrazio il mio collaboratore che mi ha permesso di stare oggi qui a castel goffredo un saluto stiamo insoscia alla prossima ciao ragazzi ciao ma tutti quanti amano mai ciao ciao